Veneto ed il Trentino coinvolgendo località, quindi Venezia, Trento ed Asiago in piazza maggiore per la cerimonia di apertura dei campionati del mondo di Orienteering 2014. Ladies and gentlemen, welcome to Asiago. ...of Asiago, sette comuni, Val Sugana, Folgaria and Luzerna. Sono 2.000... ...Long, middle-air, relay. Ausia, ausia! Wow, dios, te rai ci sei. Andiamo con la prossima! ...e non solo, discuteremo queste splendide località, vedremo i migliori attretti al mondo, dell'Orienteering, la forza Orienteering, la sua il... Bienvenue, welcome to Beijing, Beijing! Tutte le amministrazioni pubbliche, civili, sporative e militari arriva solo solo il prossimo mondiale! ...vede che così teneremo qui tutte le barriere, questo evento internazionale è importantissimo. ... ...vienvenido a Colombia! Attenzione, uno degli squadroni, uno dei top team, the champions of South America, E' venuto Ecuador, da tutto il mondo, 54 nazioni a scoprire queste terre. E' venuto l'equipe da Francia!